Salve ragazzi, maestro Fantini e Allagar Matteo. Oggi un video didattico per una persona che mi ha chiesto come si usa un coltello quando in teoria non lo sa usare. Allora, il modo più semplice è quello istintivo. Non credo che ci sia un metodo A o B, ma la cosa che posso dire è se sei interessato alla difesa personale con un'arma ma non hai le possibilità di frequentare dei corsi specifici per quell'arma o l'altra arma, usa quello che sai fare. In questo caso magari un pochino di pugilato mischiato con pugni a martello. Allora, Matteo adesso vi farà vedere semplicemente un esercizio di base. Vai Matteo. Come vedete Matteo sta praticamente eseguendo dei movimenti dal pugilato, non praticamente in una scuola, anche perché Matteo non è un pugile, ma tenterà di fare quello che nel suo istinto di usare i pugni se venisse aggredito, con ausilio praticamente di una lama. Può essere un coltello dritto come potrebbe essere un carambit. Non importa, il modo più sicuro di usare un carambit, se non sapete usare, non fate silat, è questo. È un tirapugni leggermente più pericoloso. Ragazzi, una piccola pillola per chi non pratica mazzale filippine o silet indonesiano, questo è il modo in cui potete usare un coltello senza saper usare un coltello. Da Comanchi è tutto, maestro Fantini alla Garmatia.